Rischia di finire nel nulla l'intera riforma sanitaria approvata dalla Giunta Chiamparino. Ieri i giudici amministrativi hanno infatti dato udienza ai legali dei 39 comuni del Tortonese che il novembre scorso avevano presentato ricorso contro la delibera di giunta con la quale si è dato il via al piano di riordino dell'intera rete ospedaliera piemontese. La riforma saitta, secondo quanto esposto ieri dai ricorrenti, sarebbe illegittima perché è adottata dalla Giunta anziché dal Consiglio regionale. Se il Tar condivedesse la censura di incompetenza, allora cadrebbe l'intero piano regionale perché la Giunta ha adottato il piano stesso. Lo Statuto della Regione Piemonte demanda al Consiglio regionale la competenza ad adottare gli atti di programmazione. Che si trattasse di un atto di programmazione risultava dall'oggetto innanzitutto, e cioè la riorganizzazione della partita ospedaliera. questo atto era una variante sostanziale al precedente piano sociosanitario adottato dal Consiglio regionale. Se le ragioni dei comuni verranno accolte, sarà possibile un annullamento anche solo parziale della riforma. Tortona potrebbe così riottenere il presidio ospedaliero così come è stato mantenuto a Novi Ligure. Il punto centrale è la non comprensibilità della scelta fatta dalla Regione nel sopprimere sostanzialmente l'ospedale di Tortona e nel mantenere l'ospedale di Novi Ligure. Questa incomprensibilità è accresciuta dal fatto che la Regione si richiama a esigenze di carattere finanziario. Un generico richiamo a esigenze di risparmio finanziario, ma mi permetto di ricordare la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha annullato la legge che prevedeva il blocco degli aggiornamenti delle pensioni e la Corte Costituzionale afferma che non è sufficiente invocare in modo generico un'esigenza finanziaria per sacrificare valori avvertiti fortemente dalla collettività. Decisione dei giudici entro luglio. La Regione avrebbe infatti già vuotato i cassetti e quindi, per giudizio di merito, non dovrebbero esserci ulteriori richieste di documentazione da parte del TAR. La Regione credo abbia vuotato i cassetti, abbia consentito al TAR di vedere tutto ciò che essa aveva utilizzato. Quindi esclusa questa eventualità di un allungamento del percorso per esigenze istruttorie, io credo che siamo nell'ordine di attesa di un mese, un mese e mezzo.